Tutto Shakespeare in 90 minuti Un sentiero luminoso vi indicherà quella più vicina Se durante lo spettacolo si venisse a creare un'improvvisa perdita di pressione Le maschere ad ossigeno si renderanno automaticamente disponibili Posizionatele sul vostro naso e sulla vostra bocca e continuate a respirare normalmente Se con voi c'è un bambino piccolo, prima di tutto indossate la vostra maschera E lasciate che la carcola si arrangi da sola Ma permettetemi ora di presentarmi, sono Francis della Shakespeare Pocket Company I cui soci fondatori è doveroso ricordarlo sono Sir Alex e Sir Norman Ebbene signore e signori, questi due titani ed io, un modesto attore di provincia Ultimo arrivato perché spinto dal regista Tenteremo un'impresa che non ha precedenti nella storia del teatro Cattureremo in un'unica rappresentazione La magia, il genio, la suprema grandezza dell'opera completa di William Shakespeare Bene, sarà meglio sbrigarsi Vi presento quindi, senza ulteriori indugi, uno dei massimi studiosi contemporanei di Shakespeare Che ci farà una breve introduzione su William come uomo Signore e signori, accogliete con un grande applauso Sir Alex E qui entra Alex Grazie 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 a tutti